Una storia drammatica, quella di Marco, il bambino di 11 anni, residente a Brolo, deceduto ieri prima di arrivare all'ospedale di Patti. Il ragazzino di 11 anni era affetto da gravi patologie e dieci giorni fa il Tribunale dei Minori aveva disposto che fosse trasferito in una struttura adeguata alla sua malattia per ricevere maggiore assistenza. Dopo la morte della madre, avvenuta la scorsa estate, il ragazzo era seguito dal padre e da due fratelli, anche loro minorenni. Ieri però il piccolo si trovava ancora in casa quando si è sentito male. Il padre, svegliatosi all'alba, ha notato che il ragazzo era in sofferenza e in gravi condizioni e ha cercato di portare il figlio direttamente in ospedale, bypassando nell'urgenza il 118. Ma per Marco era ormai troppo tardi e i medici dell'ospedale Barone Romeo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Adesso la procura di Patti, guidata da Angelo Cavallo, vuole far luce sul caso e ha aperto un fascicolo al momento contro i gnoti. Le indagini sono guidate dal PM Alessandro Lia. E' correlare se questo sia stato causato dalle preesistenti condizioni di salute del ragazzino oppure da cause cliniche insorte successivamente. Un passaggio determinante in relazione alla notifica del provvedimento tutelare già emesso. Marco viveva a Brolo con la sua famiglia. Era nato affetto da una rara patologia a causa della quale aveva ricevuto sin da subito delle cure anche presso l'ospedale Gaslini di Genova specializzato in cure pediatriche e pare che si alimentasse soltanto attraverso un sondino. Il contesto familiare era seguito dagli assistenti sociali che avevano anche segnalato il caso al Tribunale dei Minori di Messina. Il padre è disoccupato e dopo la morte della moglie era rimasto da solo a dover badare ai tre figli. Il giudice minorile aveva quindi disposto lo scorso 23 marzo il trasferimento d'urgenza in una struttura adeguata dove Marco potesse ricevere tutte le cure del caso. Un trasferimento che però non è mai avvenuto. Anche su questo indagherà la procura. Intanto la comunità locale una volta presa la notizia ha affollato il web di considerazioni tristi e dolorose. Una storia drammatica purtroppo senza lieto fine.